Cosa hai combinato? Io non lo so. Che facciamo adesso? Guarda, qui c'è una mappa. Una piccola tv in macchina. Questa deve essere una macchina del tempo. Nuova Fiat 500X. Il domani ti aspetta. Oggi, tutta nuova. Anche il prezzo da 15.000 euro. Scopri la nuova generazione di motori Firefly. Grazie a tutti.